Ciao, sono Emilio Corbari di Okidoki Lab. Okidoki Lab è un'associazione che collabora con la biblioteca di Cernusco sul Naviglio per i corsi di audiovisivo. E infatti stavamo proprio tenendo un corso di linguaggio cinematografico quando purtroppo, come tutti sapete, i corsi si sono dovuti interrompere a causa dell'emergenza coronavirus. Spero che il nostro corso possa essere ripreso presto, magari con qualche modalità nuova perché credo che sia interessante per i ragazzi sperimentare il linguaggio audiovisivo anche con esercitazioni pratiche come quelle che facevamo durante il corso per conoscere meglio la grammatica cinematografica per decodificare le immagini con cui tutti i giorni vengono in contatto sui social, su YouTube, dalla televisione e magari anche imparare a schivare qualche insidia di troppo. Per il momento posso solo darvi un arrivederci e spero che potremo ritornare a incontrarci presto, faccia a faccia per proseguire i nostri percorsi in biblioteca.